Eccoci, eccoci come state, ben ritrovati, un saluto a tutti, un buon pomeriggio, di vigilia mancano quasi 24 ore o meno di 24 ore se vedete questo video successivamente rispetto alle 20.45.21. Come state? Vi ricordo come sempre di commentare numerosi nella nostra community, sempre con civiltà e con rispetto, di lasciare un bel like e di iscrivervi qui se lo avete ancora fatto, attivate la campanella numerosissimi, iscrivetevi anche sul mio canale YouTube dove dopo vi darò altre notizie qui sotto nel link che c'è in descrizione dove c'è anche il podcast di Marco Van Basten. Allora, tante notizie, partiamo subito con il dire che Nasti è in direzione cremonese, dopo un sondaggio del Genoa alla fine va alla cremonese, come? Con che formula? A che prezzo? Zero, milioni, 50% futura rivendita. Ok, sarà la formula vincente, speriamo tanto, con Brescianini alla fine frutta i suoi bei soldini, speriamo che possa essere lo stesso anche per Nasti, anche se io ho sempre questa sensazione di Lidl, bah, non lo so. Poi è vero che se un domani esplode lo puoi ricomprare al 50%, però secondo me Nasti magari può fare un percorso diverso, ha bisogno di un po' più di tempo, vediamo un po' se sarà la formula vincente oppure no. Non mi interessa invece la formula per quanto riguarda Ballotouret, ci siamo col Saint-Etienne, confermata l'indiscrezione di qualche giorno fa, ne parlavamo anche nel video di ieri, e quindi Ballotouret dovrebbe tagliare con il Milan, dico finalmente perché è stato negli ultimi anni un po' travagliata la sua, tra virgolette, avventura, meglio non avventura perché ha girovagato senza grande successo al trofe, anche se nell'anno dello scudetto aveva fatto un gol importante in quel di Empoli, ce lo ricordiamo, però va bene, va bene, va bene così. Conferenza stampa di mister Paolo Fonseca, molto chiaro, netto in conferenza, dice siamo pronti, era difficile immaginare dopo solo 5 settimane di avere sensazioni così positive, dice il mister, oggi sono ancora più positivi, i giocatori stanno arrivando con diversi tempi, siamo pronti, la squadra è pronta per cominciare il campionato con fiducia e sentimenti positivi e con grande ambizione, era difficile immaginare solo dopo 5 settimane di avere sensazioni così positive, non mi aspettavo così tanto dai calciatori, hanno recepito le nostre idee, sono molto soddisfatto e con sensazioni molto positive. Chiedo cortesemente di chiudere perché sennò si sente il rumore, grazie alla regia qui perché c'è un po' Simone che girovaga e disturba e ignora che siamo in diretta su Milanello, Simone, male male male, da uno youtuber come te. Cartellino giallo, cartellino giallo, cartellino giallo per Simone. Altri spunti molto interessanti di mister Fonseca per quanto riguarda la formazione, Reinders e Pavlovich non sono in condizione, quindi non giocheranno molto probabilmente dall'inizio. Tradotto ci sarà Tomori con Gabbia dietro e a centrocampo mi aspetto, Reinders e Loftus-Cheek per mister Paolo Fonseca può giocare anche sulla tre quarti. Ben Nasser sta facendo un buon precampionato, un buonissimo precampionato se resta come a questo punto pare sono più che contento e Loftus lo vediamo in quella posizione in cui si vuole lavorare ancora molto per apprendere perché per me è una mezzala ma può fare anche il trequartista nel Milan. Reinders poi subentrerà, l'altro giorno è subentrato e ha fatto un gol su punizione davvero favoloso. Guardando un po' qua e là anche gli aspunti sparsi, poi veniamo al discorso mercato di Paolo Fonseca, dice siamo qui per lottare per lo scudetto, siamo vicini al primo posto, siamo arrivati secondi, lo ricordiamo, anche se i punti erano tanti quindi il gap da colmare non è poco almeno sulla carta, sulla classifica. Il trio Ciuquezza e Pulisic-Celeao non so se giocheranno domani al primo minuto, Jovic ha fatto un ottimo precampionato, vedremo se ci sarà Ciuquezza e Pulisic-Celeao oppure Salemakers. Io credo che debba giocare Salemakers, credo che debba giocare Salemakers al posto di Ciuquezza forse, forse sì, però vediamo appunto come finisce la rifinitura e quali sono le indicazioni e parleremo magari in via più definitiva sul mio canale personale al quale vi invito e rinnovo a iscrivervi qui sotto. Sono soddisfatto dell'arrivo di Fofanà e poi lui dice, a proposito dell'arrivo di Fofanà, recupero poi le parole nel dettaglio, trascrizione di Milan News, non voglio parlare prima delle visite mediche, dopo possiamo parlare di Fofanà, non è segreto che sta arrivando, sono soddisfatto dell'arrivo dei giocatori. E' in arrivo a Milano, è già arrivato se vedete questo video successivamente, eccolo qui, il passaggio molto significativo, con l'arrivo di Fofanà, per me, lui dice, per me il mercato è chiuso per gli arrivi, dobbiamo fare uscire giocatori perché ne abbiamo tanti, non è facile lavorare con tanti giocatori, ho parlato anche con quelli che avrebbero meno spazio. Quindi lui dice, bisogna cedere, arrivati a questo punto, dopo emerso Royal e Fofanà siamo tutti d'accordo che bisogna cedere, Ballotour è il primo, probabilmente, Nassi non lo considero, va ceduto Orighi, va ceduto Adli e vediamo poi come si sviluppa la situazione Calulo, che oggi si è allenato ancora a Milanello e sale Makers, io non ne discuterei neanche. Detto questo, lui dice, per me il mercato è chiuso per gli arrivi, ovviamente lui è più dentro, è dentro, però io credo che in questa dichiarazione ci sia un togliere pressione alla società per questi ultimi 15 giorni di mercato e un far sapere che lui così è soddisfatto. Ciò quello che chiedeva di fatto lo ha ottenuto, rivalutando magari anche certi giocatori che non pensava di poter avere così utili e performanti, penso a sale Makers e magari anche a Jovic. Il terzino destro, il Merso Royale è arrivato, il difensore centrale Pavlovich è arrivato, il centrocampista Fofanà è arrivato, l'attaccante Morata è arrivato. Quattro colpi, non per citarci addosso, però parlavamo già a fine maggio di quattro acquisti che il Milan voleva inserire come nuovi titolari e i quattro, li vedete, sono qui appunto chiari. Ripeto, io non credo che il mercato del Milan sia chiuso, da quello che trapelava anche nelle scorse ore, non ho fatto un feedback, non ho cercato un contatto, un feedback pomeriggio, però rimango a quello che mi arrivava anche nelle scorse ore. Credo che il mercato del Milan sia aperto a delle opportunità, ci sono opportunità bene, altrimenti va bene comunque così. Per Paolo Fonseca che ci tiene, arriva a dire, io sono soddisfatto, il titolo vero è io sono soddisfatto così, per me può essere anche chiuso il mercato. Poi, se gli presentano delle opportunità, per migliorare la rosa chiaramente non è che dice di no, ho detto che il mercato era chiuso. Mi sembra tutto molto lineare e chiaro. A questo proposito ora parliamo del mercato in entrata. C'è prima un appunto che volevo sottolineare, prendo spunto dal preparatissimo Felice Raimondo in termini economici e finanziari. Come ammortizzare più velocemente i residui restando nell'ambito delle quote costanti, quindi senza cambiare metodologie di ammortamento. Contatti quadrennali frequenti con opzioni unilaterali in favore del club di estendere la durata per un quinto anno. Motivo, come siccome per Fofana, 4 più 1 a mio avviso molto semplice, così facendo ammortizzare più velocemente il valore del cartellino e quindi scaricando prima il residuo in poco tempo la possibilità di generare plus valenze più importanti. Con 4 più 1 dopo due anni è già ammortizzato il 50% del cartellino e dopo tre anni è il 75%. A domani della scadenza 1 più l'opzione da poter esercitare. Si potrebbe fare anche di più offrendo 3 più 2 ai giocatori. Quindi c'è questa considerazione, questo ritorno economico finanziario fiscale che viene sottolineato e capiamo perché facciamo quindi i 4 più 1 a diversi acquisti di questa campagna di rafforzamento. Sugli altri giocatori che cosa sta succedendo? Intanto se gioca Morata sono molto sorpreso perché comunque lui è arrivato pochi giorni fa e sarebbe subito titolare dopo neanche una settimana. Sì dopo una settimana perché lui se ne è nato se non sbaglio la prima volta sabato di settimana scorsa e giocherebbe sabato della settimana dopo. Credo che sia un inedito, uno che gioca dopo una settimana deve aver fatto un lavoro particolare. Se gioca mi stupirei moltissimo però sembra che ci sia questa possibilità con magari l'idea di Jovic che subentra e sfrutta le sue caratteristiche da subentrante che sono sempre molto pungenti, spesso quando entra con l'altro giocatore. Vediamo qual è la scelta di mister Paolo Fonseca in questo caso. Capitolo mercato. Allora, i nomi quali sono? Ebram, se parte Jovic, non credo che ci siano gli elementi in questo momento per un ritorno di fiamma importante con Ebram, anche se il mercato regala sempre sorprese. Su Ebram c'è il West Ham che ha preso Fulcrug e vorrebbe che, era stato accostato anche al Milan, e vorrebbe anche Ebram, stessa agenzia di Fulcrug, la RUF, che potrebbe portare anche Ebram al West Ham. Vediamo. Non mi dispero. Per me Jovic merita di giocarsi le sue chance dopo un ottimo precampionato in cui ha fatto ricredere anche mister Paolo Fonseca. L'altro nome è quello di Samaric, però su Samaric da registrare l'inserimento. Parlo di Samaric, si accende la luce, attenzione. Da registrare l'inserimento importante dell'Atalanta che vuole il giocatore per sostituire Cup Miners, sempre più vicino alla Juventus, promesso sposo alla Juventus. L'Atalanta avrà un potere economico, tra poco, molto importante che si è fatto già diverse operazioni, quindi può andare ad Udinese con i soldi e chiudere l'operazione Lazar-Samaric, che tema a questo punto si stia allontanando in maniera importante. Samaric a me piacerebbe tantissimo, lo riterrei la ciliegina sulla torta, il fiore all'occhiello di questa campagna acquisti. Per me è un giocatore che ha 22 anni può potenzialmente diventare un top player. Se va all'Atalanta, bravi loro che hanno fatto questa operazione sostituendo però Cup Miners. Samaric perché è possibile? Perché lista 22, quindi illimitata in Italia, le difficoltà sarebbero invece in Europa, dove comunque devi cedere qualcuno. E poi c'è il nome di Chiesa. Ragazzi, la notizia di oggi, importante news su Chiesa, è che Chiesa è ufficialmente fuori rosa dalla Juventus. Prima si allenava in gruppo, oggi si allena nel gruppo dei partenti, dal quale potrebbe essere reintegrato invece McKennie. Strategia un po' discutibile quella di Giuntoli, che ha fatto fuori tanti giocatori e magari rischia di trovarseli lì o di svenderli o di regalarli, potrebbe essere il caso a questo punto di Chiesa. Perché mancano sempre meno giorni e per loro è un problema enorme. Poi, contatti ce ne sono stati sì, ce ne sono stati anche recenti con il suo agente Fali Ramadani. Arriverà, vedremo. Se arriva lui è perché parte, secondo me, Salem Akers, oppure Okafor, ma credo a quel punto più Salem Akers. Ma arrivati a questo punto, scusate la ripetizione, mi sembra più utile. Ha un fatturato realizzativo superiore a Chiesa, sì, ma è più utile alla causa e al contesto rosso-nero a Salem Akers. Quindi mi tengo Salem Akers, anche se Chiesa potrebbe sistemare gli scorsoliste e Italia ed Europa. Però sarei molto seccato di perdere Salem Akers, spero tanto che non vada via, sperando che poi confermi le aspettative. Bisogna cedere, ripeto, Saint-Etienne, Ballot-Touré, c'è Orighi, che in ogni caso è fuori lista, c'è Adli, che in ogni caso è fuori lista, è stato molto chiaro con lui, anche Paolo Fonseca, e tra quelli che potrebbero avere meno spazio, c'è Calulu, che oggi se l'è nato a Milanello, deve decidere un po' che cosa fare da grande. Sapete che mi dispiacerebbe perderlo, la maggior ragione se lo vedessimo andare alla Juventus, di fatto quasi regalato. Per il resto, per il resto c'è tanta adrenalina positiva, mi stupisce Morata dall'inizio. Si vede che ha fatto un lavoro particolare, ha finito tardi, magari ha fatto una reatletizzazione diversa rispetto agli altri che hanno dovuto fare la preparazione dopo uno stacco maggiore. non lo so, non sono un preparatore, mi fido di questi nuovi preparatori, sperando che possa essere una stagione positiva e senza problemi in questo senso. Va bene? Scatenatevi con i commenti, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella, e colgo l'occasione per chiedervi un consiglio sul nome di Fofanà, potrebbe essere il sindaco, sul nome di Pavlovich ci siamo, braccio di ferro, sul nome di Morata e di Emerso Royale siamo ancora in alto mare, quindi sbizzarritevi con estrema fantasia e proponete se vi va qualche rubrica per questa nuova stagione che sta per iniziare, io ne sono davvero molto 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 contento. Nel frattempo è in arrivo, è arrivato a seconda di quando vedete questo video, Youssouf Fofanà a Milano, domani visite mediche, e poi la firma sul contratto, e poi la presenza a San Siro, sperando che possa essere positiva la gara di domani sera. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi qui numerosi, iscrivetevi anche al mio canale personale, qui sotto c'è il link e anche a Simonello che qui con me vi saluta. Ciao! Ciao ragazzi, Forza Milano oggi più che mai, domani ancora di più. Dai!